Venezia continua ad essere angustiata da queste acque eccezionali, l'anno scorso e quest'anno uguale. Chiediamo al governo di partecipare e capire a che livello è l'organizzazione del Mose, perché qui si rischia veramente di non farcela più. Comunque domani chiederemo lo stato di calamità cittadina e chiediamo che ci dia una mano, perché qui i costi saranno tanti. Siamo qua e stiamo ancora aspettando che probabilmente può continuare la serena ancora. Abbiamo raggiunto un altro record, purtroppo negativo. Abbiamo bisogno che tutti si diano la mano e bisogna essere tutti uniti per affrontare questi che sono evidentemente gli effetti dei cambiamenti climatici. Adesso il Mose si capisce che serve e bisogna fare questo a finire. Domani mattina la scuola è chiusa per tutto quanto il centro storico di Venezia. Adesso firmo il decreto fra qualche minuto. Facciamo girare sui social per favore. Domani tutte asili, scuole, primarie, secondarie. Tutto chiuso anche perché ci aspettiamo un altro piccolo di maniera la mattina. E più bene che la gente stia a casa. Grazie. Grazie.